Cose che ho trovato al mercatino dell'usato, parte 1. Primo pezzo della mia collezione di make-up vintage è questo. Un cofanetto porta cipria da teatro, 1920. In pratica questo coso ha vissuto più di cent'anni per finire nelle mie mani. Ci sono ancora i biglietti del Teatro Eliseo di Roma, anche se credo che questi siano un po' più recenti. Ma come funzionava? Qual era il suo obiettivo? Sono informata e le donne più abbienti aristocratiche lo utilizzavano per ritoccarsi il naso. E questa è la spugnetta che utilizzavano per la cipria che si trovava in questo scompartimento. Nel secondo invece c'era il blush. E c'è ancora la spugnetta sporca di prodotto, rendiamoci conto. Questo scompartimento che adesso è vuoto serviva per posizionare i binocoli da teatro. E quindi credo proprio che la mia missione nei prossimi giorni sarà trovare questi occhialini in qualche mercatino salentino. Seguimi e lascia like per rimanere aggiornato.